Buongiorno cari amici, buon primo di aprile e buon lunedì di pasqua. Sembra una contraddizione però così è. Allora, siccome è il primo di aprile ho pensato di fare l'adivinazione con le carte dei pesci. Sono tre le scelte quindi a voi la 1, la 2 o la 3. Andiamo con la scelta numero 1. Eccola qui. E questa scelta vi dice la raffinatezza ti contraddistingue dagli altri pesci. Sei un pesce bello e raffinato per cui anche ricercato. Non fartene un vanto ma usa queste tue doti per poter progredire nel mare della mediocrità e raggiungere quello delle eccellenze. La gente si aspetta da te grandi cose. Fa sempre tutto con grande classe e se certe cose o persone non ti piacciono ma devi necessariamente avere contatti con loro, trattale ugualmente con distinzione per poter essere ricordato e dare lezioni anche così. Andiamo con la numero 38 che è la seconda. E la seconda dice dall'alto sulla coffa sta la vedetta a scorgere ogni movimento della nave, ogni cambiamento del mare per avvistare i pesci come te. Attento, ti stanno mettendo alla prova, ti stanno inseguendo e cercano di farti fare quello che vogliono loro per farti cadere in trappola. A seconda le loro mosse fai perdere la trebisonda alla nave, falli impazzire e poi tuffati nel profondo senza lasciare traccia da bravo illusionista. E poi abbiamo l'ultima che è questa con questo pesce che sembra un indiano e questa carta ci dice un salvagente non serve solo a non affogare. Questo è il suo uso estremo. Un salvagente aiuta chi non sa nuotare ad avere un primo impatto con l'acqua, un contatto sicuro, quello di cui hai bisogno tu in questo momento. Quindi sia che si tratti di lavoro, di salute o di amore, usa il tuo salvagente per avere un contatto sicuro con l'ambiente in cui ti trovi. Ho parlato, Haug. Benissimo, cari amici vi saluto, vi auguro un buon pesce d'aprile. Fatene un po' in giro, c'è bisogno di ridere. Mi raccomando, arrivederci.